Siamo qua con degli amici, con dei picciotti, che abbiamo sistemato un affare. Volevo dire a tutti i fan di Carpizzarro e Matteo Valli, che i ragazzi sono stati sistemati. Perché cantavano troppo, cantavano la minchia queste canzoni, Stingoli e Campacavalli. Abbiamo fatto due bevestiti di cemento su misura e ce li siamo allevati dalle pante. Il cappotto di cemento. Il cappotto di cemento, il lode di cemento. Arrivederci.